Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale quest'oggi torniamo a parlare di player review per andare a vedere le carte di Antonio Candreva e Giovanni Simeone nelle loro versioni headliner mi raccomando come sempre questa serie in collaborazione con i ragazzi di Emma Street vi lascio il loro link nel primo commento pinato in alto per andare a vedere le live di compravendita e non solo noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio sui due giocatori di quest'oggi partiamo dal primo partiamo dal primo andiamo a vedere la carta dell'esterno di destra ovvero Candreva il cui costo si aggira attorno ai 13.000 crediti su tutte e tre le console il giocatore si presenta con quattro stelle di piede debole quattro stelle di skill con anche normale normale di war crate caro amici sta il più consigliato andrei ad utilizzare un motorino per andare a aumentare la velocità comunque anche agilità ed equilibrio e un po di passaggio l'ibridabilità è comunque buona non tanto per la squadra di appartenenza naturalmente della Samp non abbiamo chissà che link da andare ad utilizzare però con la nazionalità italiana riusciamo comunque ad andarla ad inserire in squadra andando a vedere poi i lati positivi di questo Antonio Candreva abbiamo l'accelerazione più che la velocità scatta dal momento che così come Julian Brandt il giocatore prende tanto bene velocità però tende a farsi recuperare abbastanza facilmente quando si tratta di dover scattare in spazi particolarmente aperti da difensori come Walker che oltre a recuperarlo in velocità riescono a spostarlo dal momento che abbiamo sì un body type average però molto più tendente ad un giocatore abbastanza magro in game data anche la poca forza fisica che presenta lo recuperano e riescono a spostarlo a meno che non si cerchi di giocare il pallone al terzino comunque cercare di farla girare piuttosto che cercare di puntare costandosi abbastanza rapidamente nello stretto dato che comunque per via del body type non è così veloce, così rapido, reattivo nel girarsi nello stretto lo fa in maniera abbastanza precisa però non è così rapido appunto e non riesce così a mandare a vuoto il diretto marcatore però come detto prima riesce comunque a far girare la palla in maniera abbastanza buona dal momento che abbiamo dei buoni valori di passaggio dei buoni valori di passaggio lungo passaggio corto che sia un buon cross utile per crossare comunque dall'altre quarti e una cosa interessante di questo candreva è sicuramente il tiro da fuori aria grazie ad un ottimo posizionamento potenza tiro long shot e anche di tiro al volo che può essere una soluzione interessante altro lato negativo oltre alla pesantezza sia nello stretto che in campo aperto di candreva è la finalizzazione che non è sicuramente delle migliori e abbiamo anche ad aggravare la freddezza che non è altissima tutto sommato abbiamo comunque anche una stamina che ci può stare e andando a vedere il giudizio su questo Antonio Candreva secondo me non può essere pienamente consigliato per via di una alternativa principale che è quella di Kulusevski che costa praticamente 2000 credit in più quindi non c'è tanta differenza nel caso dove sepigliare qualche upgrade potrebbe limare la problematica della velocità sia in campo aperto che nello stretto però per via delle alternative per via del fatto che comunque non è un giocatore particolarmente in meta for fun ci può stare però non lo consiglierei pienamente appunto per i fan di Candreva della Samp per una squadra che ha bisogno magari di un link italiano e non ha un budget particolarmente elevato in quel caso può essere consigliato altrimenti se avete anche un esterno sinistro potete andare a sbloccare Felipe Anderson e spostarlo sulla corsia di destra l'intesa è sicuramente più performante rispetto a questo Candreva che purtroppo ha una problematica importante per il meta attuale procediamo con il secondo giocatore di quest'oggi raddoppiamo i crediti necessari dal momento che andiamo a vedere il ciolito Simeone costo che si aggira attorno ai 25-26 mila crediti su tutte e tre le console il giocatore si presenta con 3 stelle di skill 3 stelle di piede debole alto alto di work rate Kermisista è il più consigliato quello di cacciatore per andare ad aumentare la velocità e il tiro ibridabilità così come Candreva abbastanza buona più per la nazionalità inserita nel campionato che per la squadra di appartenenza del Verona non abbiamo link utili nei lati positivi di questo Simeone abbiamo sicuramente la finalizzazione con il destro dal momento che è ottima dal punto di vista del piede forte abbastanza problematica dal punto di vista del piede debole dal momento che abbiamo un solo 3 diciamo 3,5 dal momento che ha performato leggermente di più di un 3 stelle di piede debole ma non così tanto da riuscire a mandarlo su entrambi i piedi è ottimo anche dal punto di vista del posizionamento riesce a fare le sponde particolarmente bene e una cosa interessante è il girarsi nello stretto dal momento che anche se dobbiamo farlo senza skill dal momento che abbiamo un 3 stelle di mosse e abilità possiamo girarci comunque nello stretto senza particolari problemi dal momento che abbiamo buoni valori di agilità equilibrio reattività controllo palla un'ottima anche freddezza che vi aiuta per quanto riguarda la finalizzazione e un ottimo colpo di testa nonostante sia alto 1,81 m così come la sua versione player of the month ha un'elevazione top e anche un colpo di testa altrettanto eccezionale l'atti invece negativi di Simeone abbiamo il tiro dalla distanza che quindi non gli permette di calciare da fuori area la stamina che sicuramente non è così elevata da fargli giocare tutti i 90 minuti l'alto alto di work rate che non è il work rate ideale per un attaccante da giocare in un attacco a 2 questa cosa viene leggermente limata così come la sua versione player of the month ha anche il 3 stelle di skill 3 stelle di piede debole che arrivati a questo punto del meta non è così utilizzabile come combinazione e la velocità che appunto rispetto alla sua versione player of the month non va a essere aumentata in maniera così eccezionale arrivando al giudizio su questo Giovanni Simeone per me così come Candreva non può essere pienamente consigliato già la sua versione player of the month cominciava a faticare per via della combinazione di skill e piede debole per via della velocità che in campo aperto si faceva particolarmente sentire la differenza non è così elevata da poter permettere al momento di utilizzare un 3 stelle skill 3 stelle di piede debole ci fa recuperare abbastanza facilmente nonostante in fase di finalizzazione con il destro non sia così male da far pensare appunto di sconsigliarlo però appunto per il fatto che non è una versione leggermente upgradeata rispetto al suo player of the month però arriva tanto dopo rispetto a quella versione risulta veramente faticoso andarla ad utilizzare per i fan di Simeone per i fan del Verona può arrivare ad essere consigliato sicuramente non è una carta così malvagia per le sue caratteristiche però appunto queste caratteristiche non permettono di andarlo ad utilizzare considerando il fatto che abbiamo comunque delle alternative in serie A che sono sicuramente più performanti è leggermente meglio rispetto al player of the month dal momento che ha un costo ridotto e sicuramente scambiabile anche con un paio di upgrade non arriverebbe ad avere le caratteristiche giuste per compensare quel 3 stelle di skill e 3 stelle di piede debole che è una combinazione non facilmente utilizzabile quest'anno per i fan può essere una soluzione per le squadre di basso budget anche lì può essere interessante un try non di più per le squadre che già possono permettersi un 50k per un attaccante sicuramente ci sono altre opzioni per una punta di serie A e voi cosa ne pensate siete d'accordo scrivetecelo qua sotto nei commenti dopo aver lasciato un bel mi piace esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di Maastricht come detto prima trovate il link al loro canale Twitch nel primo commento pinnati in alto con questo video abbiamo terminato qui da Bate tutto ciao ciao